Andrea Cavicchi, Presidente dell'Unione Industriale di Prato, che aderisce a questa campagna Greenpeace e si impegna a produrre senza sostanze tossiche. Ovviamente ci sono già tante aziende che hanno aderito e tante aderiranno? Io penso di sì. Il nostro è un impegno come associazione di stimolare questo progresso. Un progresso verso un'industria sostenibile che non inquini, quindi con l'eliminazione delle sostanze chimiche, seguendo appunto il capitolato detox di Greenpeace, è molto ambiziosa come progetto ed è molto difficile. Al momento ci sono tanti sforzi da fare, tanta tecnologia da innovare ed è appunto anche per le nostre imprese, sarà un grande investimento. Però questa è la strada. La strada è l'industria sostenibile, un'industria che tolga le sostanze tossiche dal proprio ciclo ed è con loro fare un percorso insieme che ci permetta anche di far capire a livello mondiale quanto Prato ha investito nella sostenibilità. Ancora appunto non siamo a livello zero di sostanze, però dobbiamo lavorare su questa strada. Ed è un percorso fatto insieme a loro che hanno una grande capacità comunicativa a livello mondiale. Ungerese, fra l'altro è anche toscano se non sbaglio. Lei sa che Prato aveva una nomea non da poco quanto ha un distretto inquinante, parlo di decenni fa. E adesso invece siamo forse ad una scelta all'avanguardia? Sì esatto, il distretto tessile di Prato ha scelto una via che va verso la sostenibilità e verso l'eliminazione delle sostanze tossiche. Il settore tessile è tra i settori più inquinanti al mondo e oggi abbiamo appena annunciato l'impegno di ben 20 aziende del distretto tessile di Prato per l'eliminazione di tutte le sostanze tossiche entro il 2020.